8 ottobre 2024, giornata internazionale della dislessia. Per parlare di questo argomento abbiamo in collegamento con noi la Presidente AID, Associazione Italiana della Dislessia, Silvia Lanzafame. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie per essersi collegata con noi stamattina per parlare di questo tema così importante. Fare le cose per ordine. Intanto condividendo con le tante persone che ci seguono che cos'è la dislessia. La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento. È una caratteristica della persona. Naturalmente la dislessia si va ad evincere nel momento in cui c'è la scolarizzazione. Quindi nella fase appunto mera dell'apprendimento si possono verificare delle difficoltà, quindi una lettura più lenta o la disgrafia e la disortografia. Quindi la difficoltà appunto nel scrivere correttamente o facendo errori ortografici. Poi c'è la discalculia che invece è il disturbo che va a prendere la parte del calcolo. Quindi queste sono diciamo le quattro dis che fanno parte appunto del disturbo specifico dell'apprendimento. E naturalmente nel momento in cui vi è la scolarizzazione, quindi nei primi due anni di scuola, lì si può naturalmente comprendere se un bambino o una bambina ha questo tipo di caratteristica. Naturalmente ci sono anche dei campanellini diciamo di allerta che possono essere verificati anche precedentemente, però è nel momento in cui c'è l'approccio all'apprendimento che naturalmente andiamo a notare determinate difficoltà. Quindi è una dimensione che ci riporta inevitabilmente nel mondo dell'infanzia, con tutto quello che ne consegue, la delicatezza nell'approccio, la pazienza nel seguire chi dovesse essere affetto da questa disfunzione. Leggo che l'Associazione Italiana Dislessia ha avviato una campagna internazionale dal titolo Uniti per la Dislessia. Ecco, che cosa possiamo fare insieme per quanti soffrono di questi disturbi specifici dell'apprendimento? Allora, innanzitutto di dislessia diciamo che non c'è un soffrire, c'è un soffrire nel momento in cui non c'è una determinata comprensione della caratteristica. Se no è davvero, e questo io ci tengo a sottolinearlo, è una parte integrante della persona, è una neurodiversità. Quindi è un modo, tante volte, di vedere anche le cose sotto aspetti differenti. Naturalmente utilizzare una didattica nella scuola idonea e individualistica, nel senso di mettere al centro la persona, aiuta e dà un grande supporto. Ma come lo avviene anche nell'ambito universitario o anche nel mondo del lavoro, le sono sincera. Quindi c'è davvero una visione di crescita e sviluppo della persona a 360 gradi. Naturalmente noi come Associazione Italiana Dislessia, la bellezza di questa associazione, le devo dire che è quella che è composta da tutti quelli che possono essere gli stakeholder che fanno parte del mondo del DSA. Quindi noi cerchiamo davvero in tutti i modi di stare accanto alle famiglie, di stare accanto ai clinici, ai tecnici, quindi ad avere un supporto sulla ricerca, di stare accanto anche agli insegnanti stessi, dando tanta informazione e soprattutto informazione. Una delle attività maggiori che l'associazione porta avanti ormai da anni è quella dell'advocacy, cioè dare voce alle persone con questa caratteristica. Lo facciamo appunto attraverso i momenti di incontro nei ministeri e grazie appunto all'associazione noi siamo riusciti ad avere la legge 170 sui diritti dell'apprendimento e la legge 25 del 2022 invece per quanto riguarda la possibilità di evitare una discriminazione nel posto di lavoro. Intanto grazie al prezioso aiuto della regia stiamo scorrendo il vostro sito ufficiale che è davvero molto bello. E nella pagina proprio che in apertura adesso sta scorrendo in alto c'è proprio la mappa dei centri provinciali dell'associazione che è assolutamente diffusa su tutto il territorio nazionale. Eccola qui, vediamo quei puntini rossi che geolocalizzano le sezioni provinciali dell'associazione. Io penso che questa forse è la nostra forza più grande, nel senso che l'AID è composta da tantissimi volontari i quali si trovano davvero in tutte le parti d'Italia e in ogni provincia noi abbiamo un referente. C'è anche un coordinatore regionale per gestire un po' tutti i progetti che si vanno a fare in ogni territorio. Quindi per chi ha bisogno, per chi necessita, per chi ha bisogno anche di chiedere un semplice consiglio o tante volte anche una chiacchierata che cerca di portare un sollievo alla persona. Davvero sul nostro sito può inserire la città di provenienza e accanto apparirà la sezione più vicina a livello naturalmente chilometrico e lì ci sarà un volontario pronto ad accogliere qualsiasi tipo di esigenza della persona. Complimenti, complimenti davvero perché è un lavoro imponente e importante quello che fate perché poi spesso come succede abbiamo paura di quello che non conosciamo. Quindi un percorso di consapevolezza che può avvenire anche attraverso, in prima battuta, attraverso una telefonata, un'email come appunto diceva lei può essere di grande sollievo. Nel sito sicuramente ci sono tutti i contatti ai quali potervi raggiungere. E dall'altra parte dello studio, Presidente, ho con me la collega Maria Pia Picciafuoco che vedevo faceva cenni d'assenso a questo importante lavoro che fate. Maria Pia, siamo veramente contenti di questa realtà. Sì, credo che sia decisivo conoscere meglio tutto ciò. Buongiorno e grazie per quello che fate. Volevo farle una domanda. Siccome ho visto appunto che il 12 ottobre avrete il 18esimo congresso nazionale e si parla di casa, scuola e lavoro, qual è il settore in cui prima si riesce ad avere dei buoni risultati? Sì, allora noi sicuramente... Si è interrotta un attimo la comunicazione. Abbiamo quest'anno voluto ritornare... Ecco, non so se... Sì, si era interrotto solo un attimo la comunicazione. Ok. Dicevo sì, nel fatto che il 12 ottobre noi ritorniamo dopo qualche anno di assenza a rifare un congresso a livello nazionale. La nostra idea è stata quella appunto di portare più un concetto a livello sociale, cioè nel senso far comprendere che cos'è la dislessia, cioè che vuol dire vivere la dislessia. Quindi io come appunto persona che ha questa caratteristica abbiamo in qualche senso voluto far comprendere il significato di avere questa caratteristica a casa, a scuola o nel mondo del lavoro. Io penso che sicuramente una delle fasi più importanti è appunto quella della rilevazione precoce. Quindi se si riesce a individuare e a comprendere questa caratteristica nei primi anni di scuola tra operatori, tra attività di una didattica che possa essere più inclusiva e soprattutto dare i maggiori supporti, dà la possibilità a trovare la persona all'identificazione maggiore di se stessi. Invece nel momento in cui la diagnosi viene fatta e il ritardo si portano purtroppo delle conseguenze a livello soprattutto psicologico, di sofferenza della persona. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di far comprendere qual è la tempestività anche nella scuola. È l'importanza appunto del lavoro dei maestri, dei professori all'interno del corpo scolastico. Bene, speriamo che la nostra scuola appunto sia sempre più adeguata, sia sempre più pronta alle risposte a cui è chiamata, perché ormai i nostri insegnanti hanno bisogno sempre più di competenze, mi sembra di capire che però ovviamente come in altri settori ci sono anche i tecnici, diciamo gli specialisti che li affianca. Quello che mi pare, Maria Pia, quello che mi pare di leggere nel mondo della scuola odierna è che c'è comunque un livello di attenzione molto più alto a questo tipo di situazioni e tutta una serie di attività che vengono svolte per tutelare i bambini. Presidente, ci conferma questa attenzione? Sicuramente c'è stato un grande cambiamento, appunto dalla legge 170 del 2010 c'è stata veramente una maggiore formazione, una maggiore consapevolezza. Non posso negarle che c'è ancora tantissimo da fare. Tante volte appunto questa caratteristica, dato che non è visibile, dato che non è un qualcosa che si riesce ben a percepire, si ha difficoltà di individuarla dalle altre persone, soprattutto chi non è poi un clinico che va a fare una diagnosi, no? Quindi lì c'è la vera difficoltà. Io veramente dico che tante volte non basta neanche fare chissà che cosa di grandioso a livello di stravolgere la didattica, ma se noi ci troviamo dinnanzi dei docenti che riescono a credere nella persona che è davanti a loro, riescono sicuramente a creare una società migliore. Questo io penso che è forse il centro anche a livello culturale e sociale della nostra Italia. Quindi è veramente molto importante riuscire ad avere dei docenti con oltre le competenze, no? E le consapevolezze, ma delle persone veramente belle, importanti che possono creare un percorso di vita migliore. Ad ogni ragazzo per qualsiasi tipo di caratteristica possa avere, quindi trovarsi dinnanzi a loro. Stavo pensando, stavo pensando proprio questo, è quello che auguriamo ad ogni ragazza, ad ogni ragazzo che entra nel mondo della scuola e della formazione. Grazie Presidente, non potevamo chiudere in maniera migliore. Noi le auguriamo buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie. Anche le grazie mille, grazie. Ora restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie.